Tutti, il 19 giugno del 2022 i fratelli Perotti, Marche e Simone, disputeranno al centro sportivo in miniatura di Roma, in via Filippo Nicolai, al numero 76, un prestigioso trofeo nazionale che è il trofeo dedicato a Tullio Stiglio e quindi si contenderanno questo prestigioso trofeo organizzato dal delegato della FICST, che è il circuito della Federazione Italiana di Subuti e Calcio da Tavolo, Laziale, per cui un appuntamento importante per questi due giocatori molto forti a livello ternano e non solo, quindi un grandissimo in bocca al lupo e attendiamo notizie per quanto riguarda l'esito del loro trofeo che appunto si giocherà al centro sportivo in miniatura il 19 giugno, il trofeo Tullio Stiglio, uno dei trofei dedicati ai Sette Re della Capitale.